Oggi si festeggia il primo anno di questo canale e per celebrarlo degnamente ho deciso di parlarvi dell'opera Compleanno di Marc Chagall. Marc Chagall nasce nel 1887 in quello che all'epoca era l'impero russo e che oggi è la Bielorussia. Di origine ebree conduce un'infanzia che lui ricorda come serena nonostante le condizioni degli ebrei sotto il dominio dello zar fossero molto dure. Contro il volere della sua famiglia studia arte a San Pietroburgo grazie a una borsa di studio ma nonostante questo la sua permanenza nella capitale è molto faticosa. Nel 1910 riesce a trasferirsi a Parigi e risiede nel quartiere degli artisti che a differenza del ventennio precedente non è più Montmartre ma Montparnasse. All'epoca Parigi inizia a svilupparsi il cubismo ma Chagall non aderisce a questa corrente perché secondo lui è troppo legata alla realtà e alla fisicità degli oggetti. Il pittore infatti è interessato molto di più alle emozioni, al lato spirituale della forma. Chagall nei suoi quadri utilizza molti colori spesso vivaci e brillanti e forme semplici. Le sue figure umane hanno fisionomie che si deformano a seconda dell'emozione che il pittore vuole comunicare e qui veniamo al nostro quadro. È il 1915 e Marc Chagall realizza un olio su cartone dal titolo Compleanno. Questo quadro fa parte di una serie di opere in cui l'artista ritrae il suo amore per la prima moglie. Chagall infatti sposa Bella Rosenfeld appartenente anche lei a una famiglia ebrea e descrive il loro amore come un sentimento puro e forte. A seguito di un sentimento così intenso Chagall immagina in più quadri se stesso e la compagna come due creature leggere e fluttuanti. La passione che li unisce permette loro letteralmente di librarsi in volo sfuggendo così anche agli orrori del mondo terreno come la guerra, la povertà e le persecuzioni. Nel quadro Compleanno vediamo Bella con dei fiori in mano e Chagall che le dà un bacio. Il Compleanno come erroneamente si può pensare a tutta prima non è di Bella ma del pittore. Bella stessa racconta che è il compleanno del marito e mentre lei per festeggiare sta bellendo la stanza con dei fiori e dei fulari appesi al muro lui improvvisamente entra nella stanza e la bacia. L'espressione di lei infatti è sorpresa mentre lui è più coinvolto agli occhi chiusi. Per baciarla il pittore qui nel quadro addirittura si solleva da terra e curva il collo in una posizione innaturale. Anche lei è sollevata da terra ma meno in linea con il suo sentimento di stupore. È chiaro che questa non è una rappresentazione realista, tutto qui è fiabesco e la scena pur essendo quotidiana ha un che di favoloso. Non è rispettata la prospettiva, nella profondità, le proporzioni. Oltre alla coppia che è al centro del quadro possiamo notare una finestra con le tendine bianche attraverso cui si intravede la via di una città, mentre su un tavolo sono abbandonati un borsellino, un vassoio con una torta e un coltello. Qui il pittore stravolge la realtà e l'adatta alle sue emozioni. Chagall e Bella si sposano di lì a breve e il loro amore durerà più di trent'anni. Questa scena è quasi silenziosa, guardando il quadro si ha quasi l'impressione infatti di disturbare i due amanti e di essere arrivati nel momento sbagliato. Sembra che occorra fare attenzione a non interrompere un momento intimo tra i due. I colori vertono soprattutto sul rosso, il bianco e il blu, a cui si aggiungono il verde scuro e un pizzico di giallo. Questi evidentemente sono i colori dell'amore per Chagall. Con buone probabilità una certa influenza hanno nella formazione di Chagall le letture della letteratura ebraica e delle fiabe popolari russe, dove si narra di uomini e donne che possono volare, di animali che parlano e di un mondo spesso immaginato capovolto. Chagall muore nel 1985 e oggi è definito come un pittore poetico che fa del sogno il suo tema d'espressione principale. Dell'arte dice, l'arte mi sembra essere soprattutto uno stato d'animo. Lo stile non è importante, esprimersi lo è. La pittura deve avere un contenuto psicologico. Io stronco sul nascere ogni mio impulso decorativo. Attenuo il bianco, amalgamo il blu con mille pensieri. La psiche deve trovare la propria via nei dipinti. Bisogna lavorare sul quadro pensando che qualcosa della propria anima entrerà a farne parte e gli darà sostanza.